C'è fibrillazione nel mondo del calcio dilettantistico. Potrebbe essere una settimana di grossi cambiamenti. Cosimo Sibilia sfiderà Gabriele Gravina per il vertice della FIGC, carica più alta del calcio italiano che verrà decisa a Roma il prossimo 22 febbraio. Il dirigente Erpino proverà per la seconda volta di fila a prendersi lo scettro, ma sarà fondamentale anche la giornata di oggi. Il CONI, guidato da Giovanni Malagò, sarà chiamato ad esprimersi sulla richiesta del mondo dei dilettanti in merito all'eccellenza. L'intento infatti è far divenire il massimo campionato regionale di carattere nazionale e farlo così proseguire al pari della D. La volontà della LND e di tutte le regioni è quella di ricominciare. Adesso si attende solo il verdetto del CONI. Nel frattempo il mondo dilettantistico vuole chiarire un'altra importante situazione, la vicenda blocco delle retrocessioni. Da normativa della LNFGC significa che si riparte dalla categoria inferiore. Un'altra novità relativa alla campagna riguarda la riformulazione dei raggruppamenti. Alla ripartenza con molta probabilità ci sarà un girone con tutte le Erpine ed una sola squadra della nostra provincia, il Cervinara, in un altro raggruppamento. Sono giorni importantissimi per i dilettanti e per il futuro di un movimento che vede tanti protagonisti.